Io ho letto nella sua bella autobiografia, nel suo bel libro, che sua madre la picchiava, io ho letto, la violenza di mia madre è ferata e sistematica, calci anche in pancia, pugni, schiaffi, strangolamenti, una volta mi spaccò il labbro con l'anello che portava al dito. Perché si scatenavano questi episodi di violenza? Un po' penso che fosse dovuto all'alcolismo che tirava fuori questi lati aggressivi. Un po' perché si sfogava su di me. Lei a 26 anni si è ritrovata con tre figlie, di cui due sue, una non, e il rapporto con mio padre non era idilliaco, c'erano molte incomprensioni. Lei mi disse poi, più in là, quando ero più grande, quando le chiesi ma perché mi picchiavi, e lei mi disse perché mi sfogavo su di te perché eri la più forte delle tre. Però io credo che sono dovuta diventare la più forte, perché proprio per queste violenze, anche il fatto che venivo cacciata di casa, a nove anni mi ritrovavo spesso in mezzo a una strada con il gatto e una valigia e passavo da una casa all'altra dei genitori, non avendo dei punti di riferimento, a parte la mia migliore amica, l'unica amica che avevo e che ancora ho, Angelica, ho dovuto sempre contare su me stessa.